Eccoci amici, ben trovati, l'appuntamento con l'informazione di Tele Iblea sul canale 178. Come ho detto ieri fa freddo, cazzarola, fa davvero freddo e purtroppo in Italia c'è questa calata che arriva dal nord, dal nord-est e insomma farà freddo. Però dobbiamo dire che forse per Pasqua e Pasquetta da noi non dovrebbe essere particolarmente brutto il tempo e quindi potrebbe permettere a tutte le nostre aree, ma anche alle grandi manifestazioni, oggi per esempio si parlava di Enna, iniziavano questa manifestazione, hanno iniziato oggi a Enna, ma hanno iniziato anche a Ispica, si stanno muovendo da tante parti perché le celebrazioni per la Pasqua sono imponenti e dureranno fino alla domenica quando poi ci sarà il tripudio, voi sapete alle nostre parti l'Uomo Vivo, la Vasa Vasa a Modica, la Madonna Vasa Vasa a Comiso e anche in altri posti ci sono delle manifestazioni per la domenica. Per Ragusa, lo abbiamo già detto, sono 20 anni che lo diciamo, il clou di tutto sono le processioni, soprattutto quella del venerdì santo, che non è una processione ad effetto speciale, ma è molto mistica, molto sentita e noi come facciamo ogni anno cercheremo di farvela vedere a patto che si faccia in orari cristiani. Allora, come ogni anno, come ogni anno, il Vescovo di Ragusa, in questo caso Monsignor Laplaca, ma anche gli altri Vescovi, hanno avuto sempre l'accortezza, la collaborazione di invitare la stampa per fare una piccola cacchierata, ma anche per lanciare il messaggio di auguri di Pasqua. Allora, è stato fatto oggi per Coleri, noi generalmente conserviamo questo messaggio per poi mandarlo sabato sera, ma sabato sera non facciamo il telegiornale, sabato, domenica e lunedì non facciamo il telegiornale, quindi lo manderemo in onda stasera, ma lo riproporremo proprio la sera del venerdì e il venerdì lo abbiamo anche dedicato, come al solito, a delle interviste che riguardano la parte politica, al messaggio del Vescovo, ma anche una cosa che riguarda la gastronomia. Allora, eravamo chiaramente oggi a sentire il messaggio del Vescovo che vi riproponiamo in questo istante. Vediamo.